Musica Allora dovete sapere che ogni tanto si parla di scuola no? Esatto E c'è il detto che quando uno studia troppo E' un secchione E tutti lo delisano Cosa sbagliatissima Perché chi studia è da elogiare Pensate che c'è uno studente eccezionale E non sono in tanti al mondo che possono vantare una carriera scolastica simile alla sua Lui si chiama Wellin Kusuma E guarda caso dovrebbe essere o giapponese o cinese Questo non lo sappiamo Ma quello che vi possiamo sapere è che ha ben 19 titoli di laurea Di cui tre master Ma quello che colpisce è il tempo con cui lui ha raggiunto questo risultato Pensate che in 13 anni ha preso 19 titoli di laurea A rendere possibile questo risultato è il fatto che i regolamenti universitari in molti paesi sono differenti da quelli italiani Ed in particolare il giovane ha potuto iscriversi contemporaneamente a più corsi di laurea Cosa che in Italia è impossibile Portare a termine gli studi non è stato però facile data la quantità di corsi che il ragazzo deveva seguire E il sovrapporsi di alcune lezioni ed esami Il suo sogno ha rischiato di infrangersi quando è stato formalmente richiamato perché ci stava mettendo troppo a completare i corsi di laurea Ma alla fine studiando duro ce l'ha fatta Quando gli viene domandato perché ha accumulato così tanti titoli Wellin spiega che il suo sogno è di essere un consulente integrato In grado di fornire più punti di vista al cliente E infatti se la maggior parte dei titoli sono legati a economia e finanza Non mancano anche una laurea in legge ed una in ingegneria Matta oh Praticamente lui ha studiato tutta la vita Buon San Martino a tutti Stasera castagne e vino cotto E andiamo Questa sera le castagne Sai però che mangiare troppo castagne dopo eh Può succedere qualcosa E' vero anche quello Quindi attenzione Mi raccomando mangiate ma Mi raccomando con Eh con moderazione Specialmente Il vincotto Eh già Il vincotto Il vincotto Il vincotto Grazie a tutti Grazie a tutti Che a questo punto non ne avendo presa Né uno io, né uno Santi, né uno Gigi Oggi il re del tamarindismo è Franco Vi scrivono Il bello sarebbe andare al parco acquatico ubriachi E provarci spudoratamente con le foca monache senza ritegno Che spettacolo che siete ragazzi Sono le 17.50 Dieci minuti ci dividono dal termine della prima giornata in diretta su Radio Domani E siamo pensate esattamente a 39 giorni dal Natale Bisogna cominciare a pensare ai regali E anche noi faremo dei bei regali ai nostri ascoltatori Eh sì Abbiamo delle cose molto carine che prossimamente vi regaleremo Non immaginate la bellezza Già Ma gli diamo dei soldi? No, non gli diamo dei soldi No, non gli diamo dei soldi Ma è sempre quello Allora attenzione due volte Ok Allora attenzione due volte Allora attenzione due volte Allora attenzione due volte Allora attenzione due volte Allora Dobbiamo segnare un altro punto al nostro Franco E allora siamo a tre punti tamarindistici No, due Ah è vero perché l'altro l'hai detto due volte Ragione Solo due punti Però tanto anche con uno è la vita oggi E vabbè è vero perché l'hai detto due volte E la.» Orla attenzione accionare un altro punto al nostro arcs91 Ha E vabbè è vero perché E andiamo in mezzo alle stelle signore e signore E andiamo in mezzo alle stelle E andiamo in mezzo alle stelle E andiamo in mezzo alle stelle E siamo giunti al momento dei saluti tra stelle E andiamo in mezzo alle 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 stelle